La Corte d'Appello di Sassari ha convalidato l'arresto del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, ma non ritiene di dover applicare alcuna misura cautelare, se non quella del divieto di lasciare la Sardegna, fino a quando non verrà assunta la decisione se estradarlo o meno. Intanto, la difesa dell'esponente politico ha annunciato un ricorso al Tribunale Generale dell'Unione Europea per ottenere la sospensione della revoca dell'immunità parlamentare. Manifestazioni a sostegno di Puigdemont si sono svolte tanto in Spagna quanto in Sardegna, dove nella provincia di Alghero forti sono i legami linguistici e culturali con la Catalogna. Per i militanti della causa indipendentista catalana, come Jordi Quisart, Puigdemont è il legittimo presidente della comunità autonoma, ma la soluzione del problema dell'indipendenza dovrà arrivare dalla politica, non dai tribunali. In passato Puigdemont è stato arrestato e rilasciato in paesi diversi già quattro volte. Nel 2018, quando fu fermato dalla polizia tedesca perché inseguito da un mandato d'arresto per ribellione, le autorità ne negarono l'estradizione per il fatto che il capo di imputazione spagnolo non aveva un corrispettivo in Germania. Dopo quell'episodio Madrid modificò le accuse a carico del leader indipendentista.